Questo video riguarda i migliori 3 gazebo da giardino. Il vincitore della qualità è il QDRC LOD gazebo da giardino. Il design della guglia è progettata per facilitare la ventilazione e il drenaggio, detto impermeabile con 4 fori di scarico dell'acqua. Non è soggette all'accumulo di acqua. Gazebo da giardino regolabile in altezza a 3 livelli, molto facile da piegare e aprire con la semplice pressione di un pulsante, molto conveniente. La gazebo da giardino con zanzariere rimovibili per la protezione da zanzare e altri parassiti aiuta a ventilare in estate. Ottimo per uso esterno. La 4x4M tenda da giardino con rivestimento in PU ha una buona resistenza allo strappo e prestazioni di protezione solare. La telaio realizzata in ferro alta qualità per aumentare la durata. La tenda giardino inclusi 8 picchetti per il fissaggio al terreno e 4 corde, semplice e veloce da montare e smontare grazie alla struttura pieghevole. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il V1 gazebo. Il nostro gazebo da giardino 3x3M è davvero facile da montare o smontare. Bastano solo 5 minuti per smontarla. La pergola sarà molto compatta e facile da riporre. Il telaio pieghevole della nostra tenda è realizzato in acciaio inossidabile per dargli una buona stabilità. Il suo tetto in poliestere rivestito in PA e il peso della superficie di 260G barra M al quadrato non solo ti proteggono efficacemente dal sole, ma ti offrono anche un riparo asciutto per la tua festa. Un borsa per il trasporto con ruote, 4 tasche porta sabbia, picchetti, corde e una garanzia del produttore sono inclusi nella confezione di questo gazebo, oltre ai 4 pannelli laterali. 4 lati staccabili con elementi di fissaggio, di cui un parete, 2 finestre trasparenti sui lati e un porta. Possono essere facilmente installati o rimossi per soddisfare diverse occasioni, convenienti e pratici. Questo articolo non è adatto per essere lasciato incustodito o durante periodi di tempo inclemente. Il vincitore del premio è l'FP Tech Gazebo. Misura 3x 3 metri, nuovo modello completo di sacca per il trasporto il migliore sul mercato al prezzo più basso. Le nostre sono tutte foto reali del prodotto che riceverete. Davvero robusto con colorazione verde vi basterà un attimo per montarlo e sarete subito pronti per usarlo. Guarda qui sotto tutte le foto, sono foto reali del prodotto e dei particolari e leggi le caratteristiche tecniche che troverai alla fine. Caratteristiche tecniche colore delle varie parti telaio. Grigio chiaro colore tessuto. Bianco struttura pieghevole salvaspazio tessuto impermeabilizzato telo in poliestere da 180 GRMQ struttura in acciaio ripiegabile da 25x25 mm leggerissimo da trasportare in nesti autobloccanti per regolazione altezza sacca con zip per un comodissimo trasporto in dotazione e istruzioni di montaggio in italiano facilità di trasporto, grazie alle ridotte dimensioni ideale per il campeggio e giardino. Se il video vi è piaciuto saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.